Un mio concittadino torinese che si chiamava Angelo Mosso, un apostolo dello sport di fine ottocento, ci aveva addirittura scritto un libro proprio con quel titolo, La Fatica. La fatica è una parola di cui abbiamo smarrito il significato e ci sono sport tradizionalmente riconosciuti come di fatica, come la corsa sulle grandi distanze o il ciclismo o il canottaggio. Il canottaggio nel nostro paese non può non essere abbinato a due straordinari atleti, Carmine e Giuseppe Abagnale, che avevano un coach molto esigente, fondava il suo metodo sulla fatica, si chiamava Giuseppe Lamura e nel corso degli anni ci fu anche qualche polemica per quello che era definito il metodo Lamura, ritenuto un po' troppo duro. Sono molto esigente, severo direi, diceva Lamura di se stesso, perché parto dal presupposto che investire sullo sport di alto livello costa tantissimo a coni, federazioni, società e allenatori e quindi l'atleta non può giocare. Se vuole solo divertirsi deve fare alto nella vita. L'intensità del lavoro e la durezza degli allenamenti la stabiliscono gli avversari che vuoi battere e gli obiettivi che vuoi raggiungere. Più sono forti gli altri, più devi faticare. La fatica come sforzo, come slancio necessario per raggiungere un obiettivo è uno dei capisaldi dello sport, fonda il concetto stesso di allenamento e ogni atleta dovrebbe essere innamorato della fatica come un filosofo innamorato della conoscenza. D'altronde il mito considera Ercole, quello delle 12 fatiche, come fondatore dei giochi olimpici. Che bello la fatica come medicina, come dice Mauro Corona. Che bello se l'Italia riemergesse negli sport di fatica. Sarebbe un grande messaggio e un grande insegnamento, in particolare in questo momento, al paese intero. Si presentano a 150 metri trattacordo. Attenzione alla Germania dell'Est all'interno che sta attaccando proprio in questo momento un finale incredibile della Germania dell'Est. Mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe che regge magnificamente. sta reggendo negli ultimi 10 colpi. Rienviene la Germania, ma la truva italiana. È la prima vizia dell'Ansia. La Germania l'ha detto.